Se oggi tutta l'Italia è stata costretta a guardare questo schifo immondo che è successo al minuto 48 Si riferisce al rigore di Turamo? Ovviamente Chi comanda sta iniziando seriamente ad avere paura di questa Juve Vabbè ma vinceva in vantaggio l'Inter, vinceva uguale, era in vantaggio Sì, il Frosinone non si può permettere di arrivare alla fine che è un rischio che può pareggiare No, deve essere fermato subito, quindi rigore inesistente è ammazzato sul colpo La differenza, perché l'altra volta ho detto assomiglia alla Juve di Calciopoli La differenza netta è che lì non c'era il VAR, lì il VAR non c'era, qui c'è e oggi va a dormire Grazie